La bellezza per me? Prima di tutto avere bei capelli. Io ho scelto la bellezza El Seve. El Seve de L'Oreal è il mio shampoo delicato che in più fa del bene ai miei capelli. Giorno dopo giorno, El Seve dona benessere a ogni tipo di capello. Il volume dell'elastina. La lucentezza del jojoba. La forza delle proteine riparatrici. Shampoo e balsamo El Seve de L'Oreal. Delicato e benefico, giorno dopo giorno. Grazie per la visione.